Ecco qua questa amministrazione Marino che ci ha riportato di nuovo in piazza, è veramente vergognoso come sono state trattate le colleghe in questo periodo delle vacanze di Pasquali, è vergognoso come ci stanno togliendo la dignità lavorativa, è vergognoso come stiamo lavorando. Questo è veramente un modo di lavorare che non ci permette di dare la qualità nei servizi pubblici e questo ci dispiace molto perché noi siamo colleghe maestre e insegnanti che abbiamo lavorato e abbiamo dato tantissimo per questa professione e non è giusto che questa amministrazione ci stia adattando in questo modo, ci sta adattando veramente da pezza da piedi. Grazie